Musica 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 Vengono nei quartieri, tu non sei come la luce, e tu non ci giù ti prenderai, ci sono a vista volare, e tu non potete fare la scuola di quartieri, e tu non mi puoi cantare. Con i quartieri, scapire la luce, e per te la vita è luna, sai, ci ci più veloce, alle gambe lunghe e più tente, e poi sia la gara della città, non mi vuoi. Con i quartieri, scapare la luce, e per te la vita è luna, sai, ci ci più veloce, alle gambe lunghe e più tente, e poi sia la gara della città, non mi vuoi. Cosa da pazzi, roba da matti, cose da da gangster da pazzi. Bonnie e Clyde, e io ci son cascato come un cretino, come un allocco, come un bambam, e mi prendo a schiaffi, per la rabbia, per la rabbia. Va bene, ma si guarda. Ma, ma come non capire che era tutto un trucco, tutta una macchinazione, ma bastava osservare attentamente la faccia di quel facchino, una faccia, una faccia, vi dico che... Insomma, io ero appena arrivato da Beirut, ero lì che aspettavo i miei bagagli, quando, ad un tratto, ho sentito una mano che mi picchiava sulla spazza. E lui dice... Ma dottor, senta, man mano arrivano le valigie, ci penso io, va capito. Sì, va bene, va bene. Allora, prenda questa. Non ci scopo, ci penso io. Ci penso io. Prenda questa. Questa qui, sì. E anche questa di pelle. Ah, questa è di pelle. Ci penso. Andiamo, tu, Giulia. Andiamo, andiamo. Ma cosa... Oh, signore mio, mi scusi. Ma come mi scusi? Con l'eldissima sono, confusissima, ma non mi spiace tantissima sono. Ha ingoialo la testita del dottor. Ma come sei, grande? Ma cosa ha fatto, signora? Ma lasci stare. Dottor, non ti preoccupi. Lei nella distraccia è stato pure fortunato. Ma che fortunato è fortunato? E la guarda al rompiera. Ma come in un minuto glielo ho sistemato? Ma basta scendere giù nel lavoro. Ma non ho tempo, io ti chiedi a fare. E lei veglielo dare. Ma non ti chiedi a fare, non è possibile. Ma non ti preoccupi. Ma come faccio? Non c'è le cose da fare. E lei dirà. Se mi dà i teghiari, io gli sistemo tutta la roba nel portapagai. Ma quale portapagai? Al parcheggio non ce l'ha la macchina. Si, c'è una macchina. E targata a Milano. Deve essere un macchinone. Ma che macchinone? Una pagoda Mercedes. Ma che faccio una macchina? Perché la vedi che la mi fai? M'è una macchina? Ma che mi fai con la immaginazione? Ma qui non? Ma chefully non ce l'ha la tua. La mia macchina è un macchina. Ma che faccio? Le buono. Ma che faccio la macchina? 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 Io vio a la macchina è un macchina. Questa sera di un macchina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Conosco il sistema. Conosce il sistema. Ma non la riconoscerà anche questo delinquente? Chi è? Mi dica, chi è questo ladro? Chi è? È tuo cugino. È lo stile di quel delinquente di tuo cugino. E tu lo sai. Sei suo parente. Sai dove abita. E ancora non sei riuscito ad acchiapparlo. Vice brigadiere chiappalone. A chi la vuoi raccontare? Sai cosa pensano di te i superiori? Che sono un incapace? No, che sei suo complice. Che è una combutta tra parenti. Il solo sospetto è degradante. E lo è. Perché io ti degrado. Anzi, ti metto in aspettativa. E che aspetto? Non aspetti di essere degno di quella di Lisa. E di quei gradi. Io non so proprio come tu abbia fatto ad averli. Forse durante la confusione del terremoto. Vengo. Vengo. Dov'è chi? Dov'è? Sia Santuzza, vi ho chiesto dov'è. Dov'è chi? Vostro nipote, la vergogna della famiglia. Mio nipote, la vergogna della famiglia? Ecco di qua tu sei. E meno male che oggi non sei venuto a offendere questa casa onorata con la sua bibita da sbirro. Se sono in borghese, è grazie a quel disonesto. Ti hanno cacciato. Allora c'è speranza che ti radimi. Finalmente io e tuo cugino potremo camminare a testa alta. Ah, finalmente una cosa con le vostre iniziali. Franco e Santuzza? Ferroviere allo Stato. Sia Santuzza, ascoltatevi bene. Io non avrò pace fino a quando non gli avrò messo le manecchia o l'avrò trascinato davanti alla giustizia per essere condannato come si deve. Mi avete capito? Parola di Ciccio che ha falone. Va per retro. Va per retro Caino. Via. Via da questa casa onorata. E va bene. Caino se ne va. Ma se incontrati a bene, ditegli che le sue ore di libertà sono contate. Sa bene di, cazia? Ma va a tenne, va. L'inaugurazione di una gioielleria. Ecco la parte mancante. Ecco la parte mancante. Madame, prego. Come è rimasta nostra telefonata ambasciata, signora e madame volere vedere grossi gioielli per matrimonio su Annopile nipò. Dica, madame, che siamo a sua completa disposizione. Certo, dovrei avere un'idea precisa circa l'entità del dono che madame intende fare. Abbiamo pietre preziose di tutte le grandezze. Un'idea, non capiremo tempo così. Ma io, ma io, io sei per te. Con mezzo, chi? E la signora madame a dire che volere vedere grossi gioielli, grossissimi. Capisco. Perfetto, prego. Adesso mostrerò, madame, uno stupendo ruino. Veramente una cosa eccezionale. Veramente un capolavoro. Capolavoro. Oh, ho inna, che gli aspettano, tra. Tra? Tra? Neue, laist. Per signora madama, questa essere robetta. Oddio, costa pur sempre 20 milioni di lire. Per signora madama, 20 milioni di lire, essere come... Come dire voi italiana? Mondezza. Capisco. Oh, che mievro è paura, piccolo infartonto. Eh sì, io chiamare il suo medico personale e dove te lo faccio, per favore. Eh, prega tutti, io va, io va. Ah, mi dici un cuore. Ah, è bruca, io. Allora, pronto, ambasciata, sì, medico personale. Sì, arriva subito il dottore. Allora, che amai. Arriva subito il dottore. Hanno io? Ti diciarlo in arresto. Ma chi è questo patto in argomento? Io non volevo eh le bracciale. Che bracciale, l'alinquente, lo sai che sono manette. E non tentare trucchi. Dai l'altra bandietta. Grazie, signora. Dove? Dove è l'alinquente? Dove? Dove? Seguite per la moto. Parla! Sono il vice spiegatere in aspettativo a Ciscio Piappolone. Seguite per la moto. Dove. Non! Ma know! Fu. I loiędzy! Maia, mi piace! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seguite quell'uomo. Grazie a tutti. Ma dico, ti vuoi fermare? È tutto il giorno che mi corri dietro. Vogliamo continuare per tutta la notte. Hai ragione. Facciamo la ferita. In nome della legge. O ti arrendi o ti sparo. Ceccio, ma tu scherzi. Ma che dici? Veramente? Mi vuoi sparare? Ricordati che sono tuo cugino. Nelle nostre vene scorre lo stesso sangue. E poi da bambini siamo stati allattati insieme. E tu ti fregavi il biberò? Ecco perché sono così magro. E che colpa mia. Il latte era scremato. E poi ricorda, ricorda il giorno della prima comunione. L'abbiamo fatto insieme. I regali della zia. A me un orologio di latte che ancora ce l'ho. E a te la catenina d'oro. Che non so che fine ha fatto. L'ho conservata io. Un tuo ricordino. E poi giochi. I giochi. Quando giocavamo a guardie ladri. E tu che facevi? Che dovevo fare? Il ladro. Appunto. È ora di farla finita. Conto sino a dieci e poi sparo. Uno. Uno. Due. Qui sotto c'è gente. Tre. C'è gente. Non terzi versare. Ma è la verità. Quattro. Guarda anche tu. Mi vedo. Cinque. Non fare scherzi. Sei. Ci possono sentire? Sette. Otto. Nove. Dov'è? Franco. Non mi sono accorto di aver sparato. Assasino. Ti sei fatto male? Alla cazzo. Rispondimi. Assasino. La vendetta della vittima nell'istante stesso in cui il noto fotografo Playboy viene ucciso la sua macchina fotografica scatta denunciando gli assassini. Un noto pregiudicato e suo cugino, un ex sotto ufficiale da polizia, già posta in aspettativa. La polizia ricerca attivamente i due delinquenti e ancora l'attesanti. Ehi, l'attesanti! Chi è aspettato ad uscire? Non ti dite che sono sola. E tutti decidono. Non è pratico. Anche oggi siete sul giornale. È in prima pagina. Nemmeno il figlio di Sofia Lothen. Mi incoscienti. Ma vi rendete conto del baratro in cui ci troviamo? Accusate di omicidio per un tragico equivoco. E io ve ne dico questo tragico equivoco che ti ha portato qui fra noi, in famiglia. Ciccio. Cicciuzzo mio. Nepotuzzo mio. Il caproni è ritornato a movire. E corella. Ne ho un momento. Tengo a chiarire che anche se le circostanze beffalde mi impongono questa sgradevole convivenza, in che luce non se l'ha fatta sul delitto, voi restate quelli che siete e io resto quello che sono. Voglio perdonare vostra altezza se ci siamo permessi di invitarla in questa misera casa. Vuole che nella sua lavastoviglie ci mettiamo un Picasso, un De Chirico, un Goguin. Lascialo perdere! Lascialo perdere! Che non resterà sempre quello che è. E chi è? Chi sei? Un poliziotto. E magari inaspettativa. Un ex collega di quelli scimoniti, che sono venuti qua sei o sette volte a perquisire. E non si sono accorti che eravate nascosti dentro gli elettrodomestici truccati. Lei non può immaginare, ispettore, gli sforzi che abbiamo dovuto fare per fingere di non vederli. Ma era necessario. Vede, noi all'Interpol sappiamo che quell'André Perrier, la vittima, la terza della serie, è stato sospettato, espionaggio industriale. Tempo fa si sono avuti a Londra e a Parigi altri due delitti per facente del genere. Stranamente i crimini hanno coinciso con la presenza in città di un circo equestre. Sempre lo stesso, il circo Caspar. Se il colpevole è lì, dobbiamo metterlo nella condizione di far la prima mossa. Nessuno può provocarla meglio di quei due sciagurati, che già una volta hanno avuto la giella di attraversargli la strada. Sei stato molto gentile che ha appunto a venirmi ad aiutare. Non mi è stato facile convincere tu e si al mettermi in contatto con te. Allora sei convinto dalla mia innocenza. Ti conosco da molto tempo e so che sei onesto. Bracci. Anzi, se non fossi stato per certe parentele, a quest'ora ti saresti portato a casa i gatti di brigadiere. Ma lei non sa cosa mi sarei portato a casa io se non fossi stato per lui. Comunque, siccome per ora l'unico convinto della tua innocenza sono io, è bene che ti nasconde insieme a lui in un luogo intospettabile. E dovete restarci fino a quando la verità non sarà venuta a galla, perché ricordatevi, se vi fate peccare in giro, io passo un guai, ma per voi c'è l'ergastolo. Sì, sì. Caputo, dove ci vuoi portare? Sì, sì. Scusi, potrebbe indicarci dove possiamo trovare il direttore? Scusi, monsieur, ho cercato il direttore. Onde sta? U. 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 Sarà difficile che vi risponda. È un manichino. Serve per il mio numero. Ah, se cercate la carovana del direttore, è laggiù, oltre i leoni. Grazie. Siete artisti? Beh, veramente... Io sì. Ah, allora ci rivedremo. Io mi chiamo Bettina. Bye bye. Bye bye. Che gente strana c'è al circo. Eh, e guarda là. Roba da male. Che si deve vedere? Un bambino così piccolo che beve e fuma. Io gli metterò i ferri ai suoi genitori. Ma non è sempre colpa dei genitori. Questa gioventù bruciata. Ci tenso io. Ehi, ragazzino. Non ti vergogna la tua età. Beve e fumare il sigaro. Eh? C'ho 35 anni. E mo' si intenevate a sparco sta bottiglia di grappa in faccia. E mine. Il signore è il nano. Nano, non è stato maleducato. E se parla gli do due schiaffi. E io chiamo a mio fratello. E io gli do pure a tuo fratello. E io sono qua. A lui non gli do. Perché c'è il viso pulito e non fuma. Scusate. Beh, e lo scusi. Ha avuto un piccolo malinteso con il suo fratello maggiore. Faccio le mani. Buongiorno. Certo che entrando in un circo si ha l'impressione di entrare nella giungla. Guarda quanti animali. Cavalli, serpenti, scimmie, nani, giganti. Giganti. Oh, ecco i leoni. Di là ci deve essere il direttore. Sì. Ma tu vedi come trattano bene quel capellone. Hai mai visto un bisteccone così grosso? Lo supernutriscono. Eh, sì. È proprio uno splendido esemplare di leone africani. Però, che ti passa per la mente? Io gliela frego la fiorentina all'africano. Sei impazzito. Non te lo permetto. Ciccio, ragioniamo. Noi stiamo per affrontare le incognite di una vita girovaga. È noi che ne sappiamo. E se questi non ci nutrono abbastanza, mica possiamo andare fuori in un negozio a farci beccare. Perciò abbiamo bisogno di una riserva di viveri. Tu fai finta di niente. Distraiti. Vai, ci penso io. Fa ognuno il suo mestiere. A noi due, leone. Occhi negli occhi. T'ho fregato. Hai visto che ti succede andare dietro le femmine? Tu fai il Don Giovanni. Il Casanova. E io intanto mi papo la ciccia. Lei poi, capellone. E ha fatto passare una leonessa da questa parte. Non sappiamo, no? Boh. Imbecilli di inservienti. Lo sanno che Aga Khan deve rimanere isolato. È così pericoloso che non posso neanche farlo lavorare. E voi due, che cosa fate qui? Fate alla larga. Sì, stavamo appunto andando dal direttore. È in quella carovana là. Grazie, arrivederci. Ciao. Aga Khan. Il lavoro del circo richiede forza e destrezza. La destrezza è la mia specialità, signor direttore. In quanto alla forza c'è lui. Lo guardi. Che diavolo dici? Si, ci ritorna un po' indietro col tempo. Quando bussavi alla porta. E io domandavo chi è? Tu che rispondevi? La forza. Ha sentito? Avete dimestichezza con gli animali? Gli animali? Vi adoriamo. Anche loro ci adorano. Pensi che per noi si tolgono la carne dalla bocca? Sì, effettivamente abbiamo posseduto qualche animaletto. Io da bambino ho allevato una gazza. Ladra. E invece lui ha vissuto sempre in mezzo ai cani polinesiani. Non ho ancora capito che cosa sapete fare voi altri. Avrete pure un mestiere. Di che cosa vi occupavate più di voi qua? Ecco, io in un certo senso ero addetto a ripulire la società da certe scorie. Anch'io in un altro senso ripulivo la società. Capisco. Ho io quello che fa per voi. Grazie. Complicatissimi. Io vorrei sapere come ti è venuto in mente di parlare di ripulire. Sai che ti dico? Eh? Che la prossima volta la divisione dei panni la faccio io. I miei sono dieci volte i tuoi. Vorresti mettere in dubbio la mia onestà? Ah. Io ho fatto le cose in regola. Sì. Da te, metà a me. Un paio di calzi a te, un paio di calzi a me. Una maglietta a te, una maglietta a me. Una mutanda a te, una mutanda a me. Sì, a te i calzini del nano, a me quelli del gigante. A te le mutande dell'uomo serpente, a me quelle della donna cannone. Ma che ci vogliamo mettere a pignoleggiare? Ehi, voi! Lavorate invece di chiacchierare. Bene. E ora ho un numero di uomini, berberi africani. Vi vedono presentati dal gommatore Amardè. A te, un paio di uomini, a te, un paio di uomini, a te, un paio di uomini, a me. Amida, Amida. Amida! Amida, Amida! 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 What the time? E' bellissimo Hai ragione, è la zia Ehi, mi ubriaco, perché non ti picci dagli affari tuoi? Vai, vai, vai a fare il domatore, magari con i dati Chiamami padre Prepotente Ha un caratteraccio Sia Santuzza è venuta sicuramente per mantenere i contatti con noi Però dobbiamo essere prudenti Potrebbe essere stata seguita Sia Santuzza seguita? Un maniaco sessuale No, dalla polizia Comunque appena finisce lo spettacolo cercheremo di avvicinarla Ci pensi tu, io mentre il domatore lavora Ho altro da fare, devo andare al supermercato Hai molle il Cristo Molla, molla Capellone Senti i tuoi colleghi come lavorano E tu con la scusa di essere feroce fai la bella vita Mangia carne a tradimento A me non ce la fai La carne è la mia Dammi la sciccia Ma io ti punisco, sai A me la sciccia A me Sono io il re della forella E allora signori Mi tenete un gran carosello Il carosello De Leonio Attenzione A me A me A me A me A me Buonissimo! 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 Così niente di nuovo! Te lo dissi! La polizia non si è fatta più viva! La cosa è poco chiara! Comunque io verrò spesso a trovarvi per tenervi informati! Adesso ci mettiamo a infastidire il pubblico, eh? Invece di lavorare! Ma dimmeni a come parla e mi tolga questa mano di rosso! Lei non sa chi sono io! Nessuno! Lui non è nessuno! Non gli dia sconto! Scherzo! Lo spettacolo è finito, muoviti! C'è da fare le pulizie e smontare la gabbia! Cammina, cialtrone! Hai trovato che ti sistema, eh? Sbirro! Sbirro! Appena mi finisce questa umiliante condizione di indiziateli a quel divano e gli metto i ferro! Sì! 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 In fondo, deve essere facile fare il domatore! Tutta gestione di autorità! Ho! 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 Guarda! 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 Guard Salten! 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 Rolo di tamburon, silenzio! Buono! Ammela Bocuccia? Ammela Bocuccia? Buon senso! Buono? Allora! Ammela Boccutta! Che c'è? Perché hai quella faccia impaurita? Se c'era un leone vero, che facevi? C'è! Non spinga per cortesia. Che dicevi? Il leone! Non facci credere che chi hai paura? Fai l'indifferente! No, 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 no! Che cosa c'è? Che c'è? No. Che cosa c'è? Apre, apre il cancello! Ehi, faccio! Quello poi magari esce a fare uno strato. Cerca di comportarti da uomo. Ma quello gli uomini se ne mangia! Ora ti aiuto io. Aiutatelo! 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 Aiutatemi! Aiutatelo! Aiuto! Aiuto! Ragio, resisti! Sta arrivando il tomatore. Pensa solo che è un grosso d'arte. Sono d'accordo, ma questo è un grosso cazzo con la greniera! Dai calmo, sono qua io. Perché non entra? Appena pronti gli idrati. Sta tranquillo, un leone quando è sazio non attacca mai. Quando è sazio? Come si vede che non ha avuto un allenamento serio al coraggio come i domatori, i militari. E si fa per dire i poliziotti. Ammigano gli davanti! Ecco, sono qui! Senti, senti! Sventi! Avanti, l'avvento! Senti, fate presto! Senti! Quindi regalerai alla tua sposa una belliccia più bella e più preziosa! Ah, sì? Grazie! E' successo, mi regalerai un anello grande come una vera! Anna? Anna? Sì! Grazie! Questo è il marito che io preferisco! Questo è il marito che voglio per me! Questo è il marito che io preferisco! Questo è il marito che voglio per me! Questo è il marito che voglio per me! La vuoi piantare con queste maledette bottiglie? A voi! Ehi! Salve, come va? Beh, come due poveri scazzini, purtroppo. Ma non vi dovete, abate! Bisogna sapersi adattare alle nuove situazioni. Su, venite, vi offro un caffè. Accomodatevi. Molto carino questo ambiente. Il telefono. Permette? E' lei? Sì. Un tempo lavoravo sul trapezio. Mi scusi, signorina, chi è questo aiutante giovane? Mio fratello. Però, due gocce d'acqua. Formavamo la coppia Oscar e Bettina. Poi un giorno mio fratello cade. E io misi su questo numero con il manichino. Ma, in attesa del caffè, prendete un po' di frutta. Eh, sì, grazie. Ne approfitto subito. Signorina Bettina, le devo notificare che lei è molto simpatica. Signorina, l'ha già notificata. Ma dico, così si parla con una ragazza. Anche voi mi siete molto simpatici. E un giorno vi cucinerò un buon pranzetto. E se permette, la carne la porto io. Signor direttore, lei non doveva assumere quei due imbecilli. Romolo, da quando in qua prendo ordine da te? Eh, va bene, va bene. Ma intanto chi ci combatte sono io. Ehi, voi, che fate? Dovete lavorare. Lavorare, capito? Se è per fare il domatore, non sono in casa. Ah, sì? Fuori. Fuori! Dovete mettere ordine nel ripostiglio. Da quando siete qua voi, è tutto sotto sopra. Le do un consiglio. Bors! Eh, glielo dai. Bors! Mettete in ordine il ripostiglio! Mi sembrava il colonnello. In questo circo non c'è un attimo di relax. Però quei cubi stavano in un altro posto. Lì. Che memoria fotografica! Modestamente fa parte del mio mestiere. Dai, aiutami. Eschi! Guarda. Così. Regis. Che hai due gocce da? Dai. Pronti? Sì. Ora! Ora! Appestanti! Non l'ho fatta posta. Dai! Stai cambiando il tempo. Perché? Non hai sentito il tuono? Gino, a che cosa servono tutti questi tortellacci? Sono per il numero del Fachino. Una volta c'avevo un amico Fachino, sai. Mi era molto utile. Di giorno facevo il mangiatore di fuoco in piazza. Di notte lo usavo come fiammossidre. Spostiamo queste valigie. Guarda, guarda. Cederla a granta. Facciamoci un goccetto. È forse roba tua? No. E allora mettila a posto. Roba davanti. L'orologio segna mezzanotte e suona le due. Che c'è? Stai zitto. Sai cosa sono queste? Due mentine. No. Pallottole sono. Questa volta devo dare ragione a Ciccio. Pallottole sono. Vi vogliono fare la pelle o dobbiamo continuare a chiamarle coincidenzi? Certo che no. Certo che no. Sanno che ci troviamo nella pista e ci mandano il leone. Prima coincidenza. Ci mandano a sistemare il ripostiglio. E per poco due pallottole non sistemano noi. Seconda coincidenza. Perfa coincidenza la prendo io per Palermo e me ne vanno. Francolina ha ragione. Scappare dovete. Ma il mio collega Caputo mi aveva garantito... E tu vatti a fidare un poliziotto. Gente che giura di arrestare il padre e la madre. E anche il cugino. Sì, scappare, scappare. Ma come possiamo scappare? Non possiamo, non abbiamo neanche un mezzo. Ma tu guardati intorno. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Lascia fare a frangolino mio. Ciccio, c'è una macchina che ci segue e non ci lascia mai. Me ne accorgo dallo specchietto. Accidenti, hai ragione. E guarda con quanta impudenza ci sta addosso. Non ti voltare. Ho il sistema infallibile per seminarla. E quale? Una bella accelerata improvvisa. Ma tieniti forte! Prima devi dire tieniti forte e poi acceleri. Dai zitto altro per la mente. Deve trattarsi di un furgone truccato. Riesce a non farsi staccare nemmeno di un metro. E ora che facciamo? Rallento al massimo per farci passare. Ah, tieniti forte! Ma la devi dire sempre prima! Maledizione. Non abboccano, non sorpassano. I maledetti sono esperti, eh. Ma... ma... Ma quella è una ruota che ci stiamo tirando dietro. Ma io ho rubato una macchina. Conosci la storia di quello che rubò una corda e c'era attaccata una mucca? No! Siamo pure fortunati. Guarda che cazzo! È ricca di ben di Dio. Farina. L'uovo. Ah, il caffè, lo zucchio. Pane, grittini, verdura. Senti Ciccio, mentre tu guidi io preparo da mangiare. Eh? Mi sembra una buona idea. Sì, Ciccio, come la vuoi la patta? All'uovo, è presto! Oui. Figliolo, aiutami, sono molto stanco. Potresti darmi un passaggio? Ecco, veramente padre, io non sono nella condizione. Ma sì, in fondo la presenza di un ecclesiastico fa sempre buona impressione. Non c'è tutto. Sa, padre, devo guidare piano perché in casa c'è il mio cugino che sta cucinando. E invece io ti dico di accelerare e arrivati al bifio prendi quella carrareccia. Lei vuole scherzare, padre. Non scherzo. Non scherza. Il padre dice che non scherza e ne deduco che non è nemmeno un padre. Non scherza. Non scherzare, padre. Non scherzo. Non scherzo. No, non scherzo. No, invece questo rischio. Il padre dice che non è possibile chiudere. Non scherzo e la morte di approcciamia spiegale rouible. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai più forte. Sì, d'accordo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 e tutti. a 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 tutti.